Siamo davvero onorati di avervi qui, di continuare questa bellissima e fermida iniziativa ed è un appuntamento annuale che la sua longevità la lega all'amore per questo territorio e alla voglia comunque di dare un forte stimolo culturale e un riconoscimento a tutti coloro che si impegnano con l'impegno nella tipica strada del fare e del lavoro. Un traguardo storico, un importante appuntamento artistico che nel corso degli anni si è sempre più imposto per i suoi valori e per il messaggio appunto rivolto alla promozione e alla valorizzazione del territorio grigentino ma siciliano. Il premio, questa piccola riproduzione che vedete qui e che rappresenta in qualche modo la fisionomia più piccola di un gigante nella sua persona unica originale in questa prestigiosa sede, simboleggia quella forza e quella determinazione che i nostri premiati oggi sono tempi da testimonianza. Perché ognuno nel proprio campo di attività hanno cercato di offrire una visione costruttiva, talentuosa, di uberosità della Sicilia, rimanendo comunque persone per bene. Un premio che celebra le qualità umane e professionali e che si è consolidato negli anni come un riconoscimento autorevole per quelle donne e quegli uomini che hanno fatto del sapere, del loro investimento culturale e del lavoro un esempio concreto nella costruzione di una società migliore, perché a questo siamo chiamati. Spesso la Sicilia e l'Italia, è inutile nasconderci, hanno un occhio molto favorevole a tutto ciò che proviene da fuori, sono attratti da una facile esterofilia. Noi siamo qui perché di fatto abbiamo lo spessore, l'apporto di professionisti la cui identità è nostrana e che sono impegnati umanamente e professionalmente nello sviluppo sociale e nel progresso del Paese. Ci tenga a dire che non è un progresso di natura economica, non è di tipo profittevole, ma è un progresso culturale e sociale, un progresso che guarda al bene della comunità, al pieno sviluppo formativo, a beneficio della collettività, contro ogni forma di rassegnazione, contro l'immobilismo. Ed è una lotta, una sfida a cui siamo chiamati. Il premio della Mono promuove il valore della dinamicità e promuove appunto la qualità del fare bene, perché crediamo sia giusto dare luce a coloro i quali si sono impegnati nel diversare del sapere per un'innovazione sociale, culturale e professionale di alto profilo. Superfluo adesso ricordarvi il nome e l'elenco degli illustri insegniti dalle precedenti dizioni, ma basta ricordare che dalla fisica all'ingegneria alla medicina, dall'industria all'agricoltura, dal commercio al turismo, all'arte, alla scienza, allo sport, beh, non c'è stata manifestazione del lavoro che il terramone non abbia portato alla ribalta, al pubblico riconoscimento, nella valorizzazione di tutte le fisionomie professionali. Ma come nel nostro stile, uno stile che si è concretizzato e portato avanti negli anni, garbato e sobrio, che da sempre caratterizza il premio della Monè, non vogliamo fare di questo 42esimo compleanno un'occasione di celebrazione fine a se stessa. Consideriamo al contrario questo appuntamento un momento di riflessione per il futuro della città e del territorio. Agrigento, ahimè nella recente classifica sulla qualità della vita nelle province si è classificata a 100 mesi, 98 per rifaggio sociale, 104 per affari e lavoro. La qualità della vita è difficile perché ha investito tutti i settori dell'economia, anche i settori strategici che sono stati portati a un certo affanno. E i giovani sono soggetti ad un'emigrazione quasi forzata per un orizzonte lavorativo più o quanto meno rassicurante. E le parole degli grigientini che sentiamo tutti i giorni sono quelli di inerzia e di sfiducia. Eppure non dimentichiamo che noi viviamo in una regione, in una città dal patrimonio culturale e artistico di immenso valore. La Sicilia è il luogo ed è la regione italiana con il numero più alto di patrimonio unesco. È vero, sono carenti i servizi in grado di far uscire dall'isolamento geografico, a partire da quelli infrastrutturali e mi riferisco alle difficoltà che diversi premiati hanno avuto nel raggiungere la nostra città, indiscutibile e sotto gli occhi di tutti. E in fase di creazione una progettualità culturale che vada ad elevare la qualità del territorio. Insomma, grigento sembra in qualche modo accogliere in maniera più forte i problemi sociali e il disagio tipici delle milioni. Però con questa dura realtà e soprattutto con la limitatezza delle risorse che incontriamo tutti i giorni, nonostante alcune buone soluzioni della nostra amministrazione locale. Mi riferisco, per esempio, sempre nell'ultima classifica, che noi siamo all'ottavo posto per quanto riguarda l'ecosostenibilità, un grande inizio in un cambiamento culturale. Siamo tutti chiamati a confrontarci e a svolgere ciascuno nel rispettivo ambito il proprio dovere, professionale, culturale, ma soprattutto umano. Per questo, diciamo all'inizio, i premi pelamoni non sono mai stati un'occasione per cuffarsi nella festa e dimenticare i problemi quotidiani, bensì un'occasione di valorizzazione dell'impegno umano e un momento istituzionale di confronto e anche di riflessione. Il cammino verso una Sicilia è diversa, costruttiva, è difficile, però possibile. E le difficoltà possono essere uno stimolo al cambiamento e sicuramente un incoraggiamento anche per cambiare lotta. Allora dobbiamo impegnarci tutti, credere in una società migliore, in una terra fernida che ha talento e soprattutto carosità. Questo è proprio il messaggio sapiente dei nostri insinuiti, imprenditori, artisti, scienziati, medici, magistrati, uomini di cultura, servitori dello Stato, siciliani, nativi e originali che con l'esempio del lavoro, lo spirito umano, il calcio, la bonegazione, hanno dimostrato che è possibile rischiare, che è possibile mettersi in gioco e che è possibile contribuire e costruire una società migliore malgrado brutto. Ciascun premiato, attraverso l'etica del lavoro, il suo stile personale, lo studio, la continuità dell'imprendo, anche la rete interpersonale che è stata intessuta ha creato una rete di valore e di beneficio sociale. È come non dimenticare tra gli insiniti del premio Telamone Leonardo Sciascia, Gasper Ambrosini, Gaccia Maraglini, Pietro Indraude, Etano Silvestri, Alessandro Finazzi Agrò, Rosario Emodeo, Andrea Camilleri, Letizia Battaglia, Salvatore Antico, Giuseppe Tornatore, Ignazio Buttitta, Michele Aivis, Pietro Bartolo, Diego Planeta e la lista, credete, può anche essere più lunga. Donne e uomini profondamente ispirati dal senso del dovere, dalla passione per il lavoro e dal senso della collettività, che hanno vissuto un'esperienza personale e professionale di alto livello, con positive ricadute su tutto il territorio sociale e produttivo del paese. Questo forse è il miglior messaggio per le nuove generazioni e per i siciliani, non perdere mai la speranza nelle proprie capacità e non dare anche i limiti come un'occasione di cambiamento. Credere nella voglia di fare, non solo per se stessi, ma soprattutto per una comunità di persone. Mi auguro che i giovani siciliani e tanti coetanei sappiano affrontare con inventiva, con competenza e soprattutto l'amore per il territorio le sfide della vita, a partire dallo studio, alle scelte personali, alle dinamiche relazionali e anche quelle del lavoro. Siamo qui per sostenere il messaggio che la salita non deve spaventare, fa parte del cammino della vita. Ciò che è importante è fare con passione credetemi il proprio dovere, rimanere persone per bene, vivere i propri obiettivi, perseguirli, fino alla fine essere animati da buon senso e da un'autentica motivazione. Il successo personale è effimero se si trascorre nel senso di responsabilità e l'impegno sociale. E i nostri premiati sono testimonianze di questi valori e di rimanza. La notorietà, se nasce dal riconoscimento pubblico della propria comunità e dalla stima sincera degli altri, è reale ed è longevo, proprio come questo premio. E il premio della Mono nella sua 42esima edizione intende a rafforzare quel paolo applauso pubblico a personalità a cui tutti noi dobbiamo sentirci grati, per l'esempio e per lo spirito di operosità, che non militano questa terra, ma non militano anche l'intera Italia. E mi piace concludere questo pensiero e questo benvenuto a voi tutti con una piccolissima frase. Ebbè, ho la fortuna sicuramente una buona alleata, preziosa direi, a volte anche rara, però come diceva Dieter, i migliori risultati, le migliori costruzioni si hanno con l'impegno e con la massima passione. Grazie a tutti voi.